Se alla banca è mezzogiorno, perderanno sicuramente la partita. Ho risparmiato i soldi della mia paghetta e ho messo da parte ben 18 dollari da versare sul mio libretto. Che bravo, 18 dollari. Sono parecchi soldi, Sandrino. Scommetto che... Aspetto, amici miei. Scommetto che lo strambo acconciatore è stato qui. Riuscire a superare gli oranghi se non fanno altro che dondolare. Aspetto, amici miei. Scommetto che lo strambo acconciatore è stato qui. Scopri di più su oasi nella crescita. Bene, corpo di mille balene, hanno risolto il puzzle. È un sottomarino. Wow! Io sono Peppa Pig. E questo è il mio fratellino George. Freddy, che ci fai qui? Frank, non ci si immergi in acqua senza il boccaglio. Incredibile, hanno risolto il puzzle. È un sub. Non ho molto tempo e vado di fretta. Hai dei pacchi per me? Indizio davvero interessante. Zip! 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 Grazie a tutti.